IUTS è il primo forum giovanile regionale fatto in Emilia-Romagna, promosso dalla regione, dove è stato chiesto ai giovani di dire le loro opinioni e quello che secondo loro sono problemi da affrontare per le nuove politiche future. Il progetto si è sviluppato partendo da Piacenza ed è arrivato infine a Rimini, toccando varie tappe durante il suo percorso. IUTS si è sviluppato attraverso quattro macrotemi che si sono differenziati nelle varie tappe lungo la regione. Abbiamo avuto Smarter, Greener, Closer e Fader. Ci si può confrontare e imparare a fare musica insieme. Questo momento è stato veramente bello, mi chiedo anziché venga riproposto. Bisogna rimanere in contatto tra ragazzi che ci siamo conosciuti oggi. Penso che abbiamo tante nuove conoscenze ma abbiamo creato una rete. È una carovana che si è allargata di persone e di ragazzi e ragazzi che si sono conosciuti, si sono anche messi a lavorare insieme, a immaginare futuro insieme. Questo era l'obiettivo di IUTS e posso dire che siamo estremamente soddisfatti di come sta andando. Delle giornate con più soddisfazione perché vediamo finalmente tanti ragazzi e ragazze partecipare con noi alla costruzione del futuro dell'Emilia-Romagna. Grazie. Parliamo sia di Bike to Work, sia di rimborsi o prezzi calmerati per gli abbonamenti al trasporto pubblico. Grazie. Tramite dei gruppi di interesse specifici che possono riunirsi nel tempo e ritrovare nuove opportunità per la ricerca e lo sviluppo. Grazie. Grazie mille. Grazie. 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 Per il futuro della nostra regione spero in giovani che non si sentono troppo piccoli per poter fare qualcosa, ma che possono essere effettivamente cittadini attivi, possono dare il loro contributo e devono essere aiutati dalla regione a conoscere spazi che li ascoltano e che vogliono sentire quello che hanno da dire. Grazie.